Gancieri, Flavio? Io voglio modalità scampagna, conservativo. Che c'è? Un'altra mamma, eh? ti vedo lanciato eh samuele io non ti vengo dietro eh danger grosso munasa ma maiala sì sì no io non mi son fidato non mi son fidato questa è bella invece qualcuno c'è cascato è qui ma non mi scriccio là ho cambiato ho cambiato posto in fondo in fondo ma ho sbagliato eh l'ho visto sì ti è sciorte maremma inviperita c'è il permafrost madonna ragazzi non mi volevo un sudiciaio cazzo ora è tutto ghiacciato invece voglio passare di qua ma non so se è meglio no ma che cazzo oddio ma sei sicuro ma sei sicuro ho detto ora è una minchiappetta ho fatto passaggi peggio e ci sono ora mi chiappetta ho fatto passaggi peggio e ci sono questo anche sì bravo hai ragione vamo ti ricordavo c'è c'è un po d'abbrivio di là sì sì no se lo fighi a destra è bello alto ho fatto un po di foglie almeno che fatia oddio oddio oh ioi 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 Grazie a tutti.